Tu sai dare un colore alla violenza? Colore alla violenza? Secondo me mira. Fanno schifo. Perché? Tutti di cui ho fatto i tuoi non si vanno, ma c'è sporchizia. C'è un bordello. Io per esempio ho 57 anni e ancora non ho neanche la pensione. Ho lavorato una vita. Quando abbiamo pensato di lasciare il paese, tutto per loro, tutto per i nostri figli. Hola mundo, io sono Maria, sono moglie, sono catadora. E quindi tu vedi un mondo di sole donne? Ah, sì. Come non? Qual è la colora della violenza? E qual è il sonore? La colora, io diria, è vero. Il sonore, il corso. La violenza è un sfumatore, magari, di viola. Il viola è il colore di una levitura che magari ti vedi là nello specchio per diversi giorni e pensi al male che quella persona ti ha fatto.